del mio cuore. Siamo tornati a rispondere ad altre domande della nostra cara amica italiana che tanto è interessata allo spiritismo e spero che queste risposte aiutino anche altri che hanno la stessa domanda. Per rispondere alle sue domande stiamo usando il primo libro della serie di libri di Allan Kardec e gli spiriti chiamato il libro degli spiriti. Per comprendere la scienza dello spirito abbiamo bisogno di leggere cinque libri gratuiti in versioni pdf disponibili per download online. Il primo è il libro degli spiriti, un trattato sulla filosofia degli spiriti. Il secondo libro è il libro dei medium, un trattato sulla sperimentazione scientifica. Il terzo è disponibile sul mio canale youtube ma che non abbiamo finito di leggere insieme che si chiama Vangelo, il Vangelo secondo lo spiritismo che rappresenta la rinascita delle parole di Gesù. Il quarto che si chiama il cielo e l'inferno. Questo libro rappresenta la visione dell'eternità secondo i resoconti degli spiriti e il quinto libro, la Genesi, che è la storia dell'universo, i sette giorni biblici e la spiegazione delle parole più complesse di Gesù. Ci sono ancora due bei libri sulla dottrina spiritista chiamati i principiante spiritista e l'altro è quello che è lo spiritismo. Questa è la traduzione che è lo spiritismo e che tratta di un dialogo tra i cattolici, protestanti e spiritisti. Tutti sono di Allan Kardec e degli spiriti. Con ciò abbiamo iniziato la nostra lettura in risposta alle domande della nostra amica. Allora, vediamo. Angeli e i demoni. Domanda 128. Gli esseri che noi chiamiamo angeli, arcangeli, serafini e simili formano una categoria speciale di natura differente dagli altri spiriti. Risposta degli spiriti. No, sono gli spiriti puri, cioè quelli che giunsero al sommo della scalla e riuniscono in sé tutte le perfezioni. Allora, Kardec parla adesso. La voce angelo risveglia generalmente l'idea della perfezione morale, ma spesso essa si applica anche a tutti gli esseri extraumani, siano poi essi buoni o cattivi. Così si usa dire angelo buono ed angelo cattivo, angelo della luce e angelo delle tenebri. Nel qual caso la parola angelo è sinonimo di spirito o genio. Noi qui la prendiamo nel suo significato buono. Domanda 129. Gli angeli dunque hanno già percorso tutti i gradi? Risposta. Sì, gli uni perché accettarono il loro compito senza mormorare. Arrivarono alla perfezione più presto. gli altri ci misero un tempo più o meno lungo. Domanda 130. Se l'opinione secondo la quale alcuni esseri furono creati perfetti e superiori a tutti gli altri è falace, come va che essa si trova nella tradizione di quasi tutti i popoli? Risposta. Siccome il vostro mondo non è Abba Eterno, è molto tempo prima che esso esistesse e altri spiriti avevano già raggiunto il grado supremo. Gli uomini hanno potuto credere che in esso fossero stati creati. Domanda 131. Ci sono demoni nel significato comune di questa parola. Risposta. Se ci fossero sarebbero opera di Dio e Dio sarebbe giusto e buono se avesse fatto degli esseri eternamente deditti al male ed infelici. Demoni, quando così vogliate dire, ce ne sono ma si trovano nel vostro mondo inferiore o in altri simili e sono gli ipocriti che fanno d'un Dio giusto, un Dio malvagio e vendicativo e credono che le abominazioni che essi commettono in suo nome possano essere a lui graditi. Kardec. La parola demonio, o meglio, demoni, implica l'idea di spirito cattivo solo nel suo significato moderno, poiché la voce greca daimon, dalla quale è derivata significa genio, intelligenza e così gli antichi chiamavano gli esseri incorporei, buoni o cattivi che fossero senza distinzione. I demoni, secondo il significato comune della parola, si suppone che siano esseri essenzialmente malefici, i quali però, come tutte le cose, sarebbero creature di Dio. Ora, Dio, che è supremamente giusto e buono, non può aver creato degli esseri predestinati al male per loro stessa natura ed amati per tutta l'eternità. E se poi si volesse affermare che non sono opera di Dio, sarebbero ad eterno come lui, e così ci sarebbero non una, ma più potenze supreme. Prima condizione di ogni dottrina è di essere logica. Ora, quella dei demoni manca di questa condizione essenziale, che nelle credenze dei popoli barbari figurino i demoni, ammettono anche divinità malefici. Ma chiunque ritiene la bontà essere da tributo per eccellenza di Dio? Non sarà mai tanto illogico da supporre che egli abbia potuto creare degli esseri consacrati al male e predestinati a farlo in perpetuo, poiché sarebbe un voler negare la sua bontà. I fautori della credenza nei demoni si appoggiano sulle parole del Cristo. Né certo noi metteremo in dubbio l'autorità del suo insegnamento, che anzi vorremmo vederlo scolpito nel cuore, più che sulla bocca, di tutti gli uomini, ma sono essi poi ben sicuri del significato che egli dava alla parola demonio. Non sappiamo forse che la forma allegorica è uno dei caratteri distintivi del suo linguaggio. Si dovrà dunque prendere alla lettera tutto quanto si racchiude nel Vangelo. valga ad esempio il solo passo seguente. Subito dopo questi giorni di afflizioni il sole si oscurirà e la luna tramanderà più luce e le stelle cadranno dal firmamento e le potenze del cielo saranno scosse. In verità vi dico, la presente generazione non passerà prima che tutte queste cose non siano compiute. Riguardo la creazione e il movimento della terra, abbiamo veduto che la forma del testo biblico è spesso contraddetta. Non può essere lo stesso di alcune figure adoperate dal Cristo, il quale doveva parlare adattandosi ai tempi ed ai luoghi. Il Cristo non ha potuto dire scientificamente una falsità. Dunque, se nelle sue parole vi sono cose che sembrano offendere la ragione, questo accade perché noi non le comprendiamo o le interpretiamo malamente. Gli uomini hanno fatto riguardo ai demoni. Quello stesso che hanno fatto riguardo agli angeli. Come hanno creduto ad esseri perfetti e ab eterno, hanno del pari veduto negli spiriti inferiori esseri eternamente cattivi. Il vocabolo demoni deve dunque ritenersi come sinonimo di spiriti impuri, i quali spesso non valgono punto più degli esseri fantastici designati con questo nome, ma con la differenza che il loro stato è solo transitorio. Essi sono spiriti imperfetti che si ribellano contro le prove loro imposte e che appunto perciò sono condannati a sopportarle più a lungo. Non di meno, a loro volta raggiungeranno anche essi la perfezione. Sempre ne avranno la volontà. Sempre quando ne avranno la volontà. Quindi si potrebbe accettare il termine demonio con questa restrizione, ma poiché ormai viene adoperato in questo significato esclusivo, non mancherebbe di essere continuo a causa di errori facendo credere all'esistenza di esseri speciali, creati unicamente per esseri malvaggi. In quanto a Satana, è evidente che egli è la personificazione del male sotto forma allegorica, poiché non si potrebbe ammettere un essere malvagio in una lotta da pai a pai con Dio e la cui sola occupazione consistesse nell'opporsi ai disegni di lui. Siccome all'uomo ha bisogno figure che ne scolpiscono le immaginazioni, egli si è rappresentato gli esseri incorporei sotto una forma materiale, con attributi che ne ricordano i preghi o di difetti. Così gli antichi, volendo personificare il tempo, lo raffigurarono in sembianza di un vecchio con la falce e la clessidra, poiché simboleggiarlo con l'aspetto di un giovane sarebbe stato assurdo. Così accade per le immagini allegoriche della fortuna, della verità, eccetera. E così i moderni hanno raffigurato gli angeli o spiriti puri come giovenetti raggianti con ali candide, simbolo della loro purità e Satana con le corna, gli artigli e gli attributi della bestialità, simboli delle basse passioni. Ma il volgo che prende le cose alla lettera ha veduto in questi emblemi personaggi reali, come una volta aveva veduto Saturno nell'allegoria del tempo. Ebbene, spero che le risposte vi siano piaciute. Se lo avete fatto, mette i piace al nostro video, fate domande, commentate, lasciate la vostra opinione, condividete i nostri contenuti, iscrivetevi al nostro canale YouTube, Facebook e Instagram e cliccate sulla campanella per ricevere le notifici. contiamo con il suo supporto. Grazie per aver ascoltato, ascoltato, Dio vi benedica a tutti, alla prossima, bacioni, ciao! Grazie a tutti!